Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori pilette doccia. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cutlim qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Eridanus piletta doccia. Quando la doccia a casa ha un'inclinazione ridotta, è essenziale scegliere un tubo di scarico della doccia per pavimenti di alta qualità per consentire all'acqua di in streaming nella tubazione di scarico rapidamente e senza zoccoli. Anche la proposta di Eridanus è un design funzionale, perché può essere montata nel cortile, sotto il portico, in cantina, in cucina o in garage, in base alle esigenze di ogni consumatore. Al numero 4, abbiamo piletta di scarico. Se ti stai chiedendo dove acquistare un tubo di scarico della doccia con un tubo adattabile, ecco la soluzione che fa per te. Questo modello di idralita è sviluppato per essere facilmente riadattato durante le operazioni di installazione. Poiché i prodotti componenti in plastica sono facili da regolare in base all'area disponibile, è un dato di fatto, può essere un perfetto scarico della doccia se si intende rinnovare il bagno. Al terzo posto, abbiamo la VB come canaletta. Coloro che sono alla ricerca di un tubo di scarico doccia con un layout elegante e minimale con cui decorare l'ambiente sviluppato in bagno, possono dare un'occhiata a questa opzione VB come. È un design alla portata di tutti, cioè facile da configurare anche aderendo alle direzioni consistevano nel fascio, e che soprattutto occupa poco spazio e rende anche più facile drenare l'acqua. Contrastando diverse cose comparabili, questa soluzione è inoltre vantaggiosa, anche se l'alto costo può rendere quelli che intendono conservare il naso. Al numero 2, abbiamo il Weerqueen, scarico. La primissima impostazione delle nostre raccomandazioni di acquisto riguardanti le offerte più intriganti di rifiuti doccia in rete è abitata da questa versione Weerqueen una soluzione legittima da numerosi punti di vista. In primo luogo, coloro che non hanno un piano di bilancio elevato avranno sicuramente occhi brillanti, poiché le spese di questa versione non superano i 25 euro, quindi è un accordo se si cercano risparmi. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il piletta di scarico. Tra i modelli di scarico doccia di grande successo c'è questo rimedio Sanitop Vingenrot con misure di 26,8 x 19,6 x 9,2 cm, che oltre a occupare poco spazio rispetto a varie altre versioni, dura anche un lungo periodo di tempo grazie alla qualità dei costituenti dei materiali. La tubazione del tubo di scarico sifonato, dotata di una struttura adattabile e immunitaria e con una capacità di allungamento da 40 a 85 cm è infatti tra i suoi principali vantaggi. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.